Lorenzo Potalivo e Alessandro Stampone sono i due vincitori dell'edizione 2017 del premio alla memoria del professore e ingegnere Mario Molino, voluto dai familiari e promosso dai Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Host, in collaborazione con la dirigenza dell'Istituto Tecnico Mattei e la Denso Manufacturing Italia. In un'aula magna gremita di studenti sono stati premiati gli ex allievi, che hanno raccontato la loro esperienza trimestrale maturata all'interno dello stabilimento Denso di San Salvo e come quell'esperienza abbia consentito loro di essere assunti, con categorie già al di sopra di quella base, alla FCA di Termoli. Scommettere sui ragazzi sulla loro capacità equivale a scommettere sul futuro, questo è il senso del premio che rispecchia anche l'operato dell'ingegner Mario Molino durante tutta la sua esperienza professionale, incentrata sul profondo amore per l'educazione per i giovani e per la sua terra, Vasto, nella quale ha contribuito a portare industrie che hanno generato circa 3.000 posti di lavoro. Città che gli ha dedicato una targa, intitolandogli il Laboratorio di Elettrotecnica dell'Istituto Mattei, l'Idova ha insegnato a tanti studenti come avere successo nella propria professione.